Sì, grazie Presidente. Anch'io voglio ringraziare il Vicepresidente Maselli per questa presentazione di legge, la Giunta e tutti i colleghi della Commissione perché in fondo abbiamo continuato con quella sinergia e con gli ottimi rapporti che erano cominciati con il testo unico del commercio. Come già anticipato in occasione della discussione generale, riteniamo questo settore fondamentale per lo sviluppo della nostra economia e nello specifico per tutto quello che riguarda le nostre eccellenze del Made in Italy e nello specifico del Made in Lazio. Abbiamo anche più volte parlato di questa tutela dell'eccellenza Lazio, abbiamo provato a farla in occasione del testo unico del commercio, l'abbiamo fatto con gli emendamenti del bilancio e del collegato di quest'anno, speriamo prima o poi di riuscire veramente a dare intorno a questo settore di eccellenze la tutela che meritano. Quindi esprimo il voto favorevole di tutto il gruppo del Movimento 5 Stelle, augurandoci di poter quanto prima tornare a parlare di organizzazione di fiere in presenza nella nostra regione e in tutto il Paese. Quindi speriamo veramente che questo sia l'augurio per uscire davvero fuori da questo anno da incubo.